Oggi sono ritornata a Gela Per me lo sapessi Sono partita E ho venuto a usare questo Tutti di quel video Poi dopo E ho detto Perché sono qui Ho mangiato una conchiglia Poi c'è se la dimenticata Quindi Ho giocato con altri due L'Oringist E Roby L'Oringist Lo conoscete tutti E Roby ovviamente Lei è una Tuve molto conosce E non so Proprio tanto Ho scolato due scritti Serialmi scritta Io sono stata lei Dove c'è un altro scritto Il fratello di Viva Un mio compagno Però non è solo 22 Siamo neanche 30 scritti Quindi io la voglio superare Voglio arrivare a 40 scritti E perché nel video Quello della canzone Non vi è piaciuto Perché non vi è piaciuto Il video della canzone Perché ho sbagliato Proprio tanto Ragazzi Scrivetemelo nei commenti Se volete Perché nessuno mi scrive qualcosa Nei commenti Ragazzi Non mi scrivete nulla Magari Vi scrivo pure Ciao Ciao No Comunque scrivete Bambarella Fine video Arrivi in due minuti Ciao Anzi Ciao Non è che non vi piace Che io faccio l'intro Non è che non vi piace Che io faccio l'intro Le mie canzoni Ragazzi Però Il mio genere Non li farò L'intro Vabbè Oggi Non li farò Ciao ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi Mattia della Campanella E ciao Ciao ragazzi